Buonasera a tutti e a tutti, stavo aspettando l'ok dal fondo perché anche quest'anno abbiamo deciso di registrare le nostre serate di freschi di stampa e quindi se sapete che qualcuno non è riuscito a venire per il meteo o per altre ragioni, perché sia persona appuntamento sono tutti recuperabili sul canale YouTube della biblioteca e sulle pagine social della biblioteca. Io sono Giacomo Gambi, sono assessore alla cultura del Comune di Imola, sono molto contento di darvi il benvenuto qui questa sera, la prima delle serate di freschi di stampa. Freschi di stampa è una manifestazione che ormai compie 22 anni, 22 anni che come amministrazione, come biblioteca decidiamo di dedicare il periodo estivo alla presentazione di freschi di stampa, quindi testi che sono usciti dal settembre-ottobre dell'anno precedente appunto a maggio-giugno di quest'anno e il testo appunto che presentiamo appunto questa sera quindi si inserisce in questa cornice. Un ringraziamento fondamentale alla Gianni Andalò SRL, è presente Iris questa sera, la figlia di Gianni Andalò, è un'azienda che da appunto oltre 20 anni sostiene questa manifestazione. La prima volta che ho parlato con Gianni ho apprezzato davvero tantissimo questo perché quando gli ho chiesto la ragione per cui un'azienda meccanica sostenesse una manifestazione prettamente culturale davvero che è di lettura, di invito alla lettura, di maggiore diffusione nella comunità dell'impegno alla lettura, della diffusione dei testi, della biblioteca, quindi dei prestiti e lui mi ha detto beh per la motivazione per cui io in realtà quando ero giovane non ho avuto la possibilità di studiare e di frequentare una biblioteca perché durante il giorno lavoravo e durante la sera invece andavo alla scuola serale e quale luogo più di una biblioteca permette invece davvero a tutti a prescindere appunto dalla famiglia di provenienza di poter studiare e avere accesso alla conoscenza, quindi questo credo sia un tema veramente fondamentale che è quello che cerchiamo di fare quotidianamente in questa biblioteca. Lo cerchiamo di fare con un personale straordinario, stasera ci sono Michela, Manuela, Paola, Silvia e tanti altri appunto che durante tutto l'anno organizzano questa manifestazione, lo dico sempre e ci credo davvero, i bibliotecari sono come degli insegnanti senza una classe in qualche modo hanno la responsabilità di formare un'intera comunità, un insegnante ha la responsabilità di formare una classe, un preside, una scuola, una preside, una scuola per i bibliotecari e i bibliotecari un'intera città e credo insomma lo facciano veramente ottimamente. Questa sera presentiamo questo libro di Romina Casagrande e visto il periodo in cui è ambientato abbiamo pensato di farla intervistare da Marco Razzi che per il Cidra di Imola appunto segue tutta la parte di divulgazione, il Cidra è il centro imolesi di documentazione sull'antifascismo e la resistenza e quindi abbiamo pensato che fosse la persona giusta per intervistare una persona insomma che ci racconta una grande storia. Le storie senza qualcuno che ci le racconta non esistono e quindi grazie Romina per averla in qualche modo recuperata visto che so che in parte c'è qualcosa di vero e grazie per averci raccontata perché senza ottimi autori non ci sono appunto libri straordinari e biblioteche come queste. Grazie a voi per essere qui e buona serata. Bene, buonasera, benvenuti, benvenuta. Romina io per rompere un po' il ghiaccio prima di entrare nel merito del romanzo, della storia ti farei due domande personali se me le permetti. Le zone di confine, ne abbiamo un esempio purtroppo macroscopico oggi sono di solito spesso attraversate da conflitti, esodi, espulsioni. Recentemente, proprio una settimana fa penso il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una scuola italiana a Parigi ha dichiarato che i confini non devono essere un limite ma un arricchimento e visto la tua peculiarità di meranese, quindi proprio abitante nel confine italo-austriaco, volevo una tua opinione e anche secondo la tua esperienza personale se per te è un arricchimento un limite a questo punto. Buonasera a tutti, io vi ringrazio tantissimo per l'invito. Dicevo prima che sono venuta qui la prima volta tre anni fa per presentare i bambini di Svevia e questa biblioteca mi è davvero rimasta nel cuore. Sono orata di essere qui con voi, di conoscere lo storico Marco Razio e di poter dialogare con uno storico perché Villa Freiberg non è un saggio, è un romanzo, è narrativa però contiene a modo suo delle verità. La prima domanda che mi ha posto Marco è un po' il centro e anche il motivo per il quale io affronto queste tematiche. Sono altoatesina nel senso che sono nata in Alto Adige da una famiglia mista, quindi da parte di mamma una famiglia più tedesca e da parte di padre una famiglia più italiana che viene dal Veneto, dal Trentino perché gli italiani sono arrivati in Alto Adige negli anni venti, quindi l'Alto Adige è stato impero austro-ungarico fino al 1918-19 e quindi diciamo ho vissuto un po' attraverso le memorie della mia famiglia che in parte riporto nelle realità di Villa Freiberg le esperienze di questa terra che sono anche delle profonde cicatrici, quindi l'italianizzazione forzata da parte del fascismo e poi un improvviso cambio di rotta quando nel 1943 tutto l'Alto Adige diventa Alpenforland, una propagine sostanzialmente del Terzo Reich. La mia famiglia ha vissuto un po' tutte queste situazioni, navigando un po' da una parte e un po' dall'altra, sopravvivendo in qualche modo e c'è un po' di lei in questa villa che sopravvive a un tempo così complicato e così difficile. Mio nonno, quindi il papà di mia mamma, Meyerhofer di cognome si chiamava Massimiliano perché a lui non era stato dato, non era possibile negli anni trenta dare un nome italiano a un bambino così come i nomi delle città, delle strade erano stati tradotti in tedesco, in italiano e poi dopo verranno di nuovo ritrodotti in tedesco nel 1943. Quindi ecco, è una storia che passa anche attraverso la geografia, passa attraverso i luoghi, passa attraverso le parole e la lingua che è un'identità culturale molto molto forte. Nel momento in cui togli una lingua a un popolo, ad un etnia, ecco che si apre e comincia qualcosa di molto grave, qualcosa che è un po' un precursore dei campi di concentramento come lo è stato poi nella seconda guerra mondiale. Grazie. Nella mia esperienza passata di divulgatore andavo nelle classi e ero solito a farmi accompagnare da un testimone oculare, quindi o un ex deportato oppure un partigiano. Ora purtroppo non c'è più questa possibilità per questioni anagrafiche, allora penso che in sostituzione di questo secondo me il miglior surrogato è la letteratura, in particolare il romanzo storico, proprio il tipo di genere in cui ti confronti, perché ha la caratteristica di mettere anche il pathos nella narrazione che secondo me è una componente fondamentale per fissare le fonti così algide dei manuali di storia e siglare così un patto narrativo con gli studenti o con i lettori. Ecco, volevo chiederti come mai, qual è stata la motivazione per cui tu ti sei trovata bene a tuo agio in questo genere, insomma, del romanzo storico. Nasce da come ho imparato io ad amare la storia. Non ho amato a scuola la storia, io sono un'insegnante quindi la storia è insegnata con le date, la storia politica di cui non capivo il senso. Quando ho cominciato a capire che erano le storie delle persone che mi hanno preceduto, storie di vite come la mia allora ho cominciato a capire che poteva essere qualcosa che davvero mi serviva e penso che portare i testimoni, le testimonianze, quindi diciamo la storia familiare sia importante e me ne sono resa conto molto scrivendo l'eredità di Villa Freiberg perché in realtà sono partita dai luoghi, quindi sono partita dalle sede istituzionali dagli archivi, ho parlato con i direttori degli archivi sono partita dalla storiografia e così come la storiografia presentava l'azione T4 però poi sono ritornata, a un certo punto mi sono bloccata anche perché c'è stata un po' una sorta di resistenza da parte dei miei interlocutori, io mi sono soffermata molto su un ospedale psichiatrico una clinica che è quella di Hall, che si trova a pochi chilometri da Innsbruck e allora sono tornata alla mia terra, sono tornata all'Alto Adige e ho avuto la grande fortuna di poter incontrare dei testimoni o meglio i parenti delle persone che sono state portate via dall'Action T4 che sono state portate via dalle loro famiglie e rinchiusi in queste cliniche quindi oggetto di sperimenti e di eliminazione un po' come succederà poi con i campi di concentramento o meglio di sterminio della Shoah e chiaramente quando tu hai a che fare con una testimonianza orale, familiare hai a che fare un po' anche col pathos di cui dicevi che va bene per un romanzo perché ti aiuta a trovare un canale diciamo così emotivo, simpatetico e riesci ad entrare nella storia da un punto di vista della sociografia sappiamo che la testimonianza orale ha comunque delle limitazioni, deve essere presa un po' con le pinze perché appunto carica di questa soggettività, di questa parzialità ed emotività però queste persone che avevano voglia di parlare perché non avevano mai potuto farlo hanno portato anche delle fonti primarie che erano i documenti con dei timbri, le fotografie e noi sappiamo ad esempio che l'Azione T4 viene sospesa da Hitler nel 1941 uno dei parenti con cui ho avuto la fortuna di parlare e che ho conosciuto mi ha raccontato che il fratellino di 12 anni era stato portato ad Hall nel 1942 ed era su una lista della morte nel 1942 una cosa che in parte si sapeva, in realtà continua perché i dottori facevano, stringevano un patto con Hitler quasi privato con Hitler e quindi continua questa operazione di eugenetica nazista sotto altre spoglie e poi perché alcune di queste storie non erano entrate nei canali ufficiali ad esempio della saggistica, della divulgazione scientifica perché le famiglie stesse erano divise perché avere in famiglia una persona con degli handicap con delle compromissioni cognitive poteva rappresentare una vergogna e quindi c'erano alcuni fratelli che volevano raccontare, altri no e lo si può fare nel romanzo perché la persona, la vita diventa un personaggio quindi ha un altro nome, ha in qualche modo un'altra identità Perfetto, dunque sullo sfondo del romanzo come sei nato tu prima c'è il momento in cui dopo l'8 settembre del 1943 e la resa incondizionata dell'Italia Hitler annette di fatto due zone italiane una è appunto l'Alpen-Forland e l'altra è l'Adriatische, Scustenland nelle province di Gorizia, Udine e Trieste mentre l'Alpen-Forland, Belluno, Trento e Bolzano Allora da qui parte essendo un appendice, una provincia di fatto del Terzo Reich parlano tutte le persecuzioni che di fatto c'erano già in Germania quindi il primo fatto che mi ha colpito molto e di cui vorrei leggere uno spunto è il primo rastrellamento di fatto di ebrei leggiamo poi dopo, allora in questo stralcio racconto Romina racconta un momento dell'astrellamento e anche secondo me è fatto veramente bene il momento in cui si capisce che i carnefisi e le vittime di fatto qualche mese prima vivevano anche in una condizione osmotica quasi erano nello stesso villaggio quindi si conoscevano Emma si voltò di scatto seguendo la direzione delle grida due soldati stavano trascinando il signor Hammer fuori dal suo negozio di tapezzerie in quella bottega non era mai entrata perché era merce costosa ma la conosceva bene il vecchio dai baffi a spazzolino i capelli lisciati in una riga di lato era stato il primo a passare a trovare lei e Benjamin quando erano rimasti soli aveva portato loro del prosciutto e delle uova anche il giorno dopo l'arrivo del soldato alla porta e del biglietto che annunciava la morte di suo padre e gli aveva abbracciati così forte che lei aveva sentito le ossa scricchiolare si aprirono un varco nella folla che imprecava contro i maiali ebrei risalendo a fatica la corrente ma le facce che vedeva sfilare non sembravano affatto quelle di assassini e ladri erano donne, vecchie e bambini strappate a forza dalle loro case qualcuno aveva aperto la porta a un volto amico con riconoscenza e un sospiro di sollievo senza sapere cosa nascondesse aveva preparato le valigie mentre l'anziana moglie insisteva perché l'ospite si fermasse a cena loro non avevano fame ma si erano dati da fare per lui e quando si erano accorti che i fuochi non funzionavano avevano chiesto aiuto al vicino e scaldato il piatto sul suo fornello elettrico avevano bevuto del vino insieme al ragazzo Emma si chiese cosa avesse provato mentre accettava la loro riconoscenza dal momento che li stava strappando dalla casa in cui non sarebbero più tornati e il fuoco riottoso era forse un segno di quanto le pietre già sapessero prima ancora degli uomini della devastazione che si sarebbe abbattuta su di loro proprio come i gatti avvertono l'onda del terremoto quando ancora si propaga nella terra poi, finito il vino marito e moglie avevano sciacquato i bicchieri e chiuso casa lo avevano seguito con il cuore trepidante ma con fiducia perché se lo ricordavano con i denti da latte a tagliare ceppi di legno per farne saliere e che male può farti un bambino che hai visto crescere e a cui soltanto l'estate prima hai regalato caramelle? questa è una storia vera è una testimonianza vera e per questo fa venire ancora di più i brividi e la comunità ebraica di Merano era una comunità molto nutrita Merano era una città ospedale quindi non viene bombardata a differenza di Bolzano è una città cosmopolita che ha in sé una sinagoga una chiesa protestante luterana perché arrivano a Merano turisti l'alta nobiltà l'elite proprio d'Europa per le cure e i medici coloro che aprono le cliniche che aprono le pasticcerie sono ebrei dell'est sono famiglie ebrei dell'est e tutta la comunità ebraica viene sterminata e gli ultimi a venire portati via sono le persone anziane che non avevano voluto lasciare le loro case e sono i bambini quindi abbiamo una bambina Elena Di Salvo che ha sei anni ha la tubercolosi viene portata via con la mamma vengono presi dalle loro case senza nessun tipo di preavviso vengono portati via in settembre con vestiti ancora leggeri sbattuti sui treni che li portano a Reichenau che è un campo di concentramento vicino a Innsbruck e poi da qui ad Auschwitz se sopravvivono nessuno ha più fatto ritorno e questa è una ferita della mia terra della nostra terra e quello che mi premeva far emergere in qualche modo era una cosa un dettaglio che però non è un dettaglio ma è molto importante storiograficamente e che viene spesso un po' accantonato lasciato passato in sordina perché ha a che fare con le nostre coscienze a Merano appunto c'è questa sinagoga che è diventata anche un piccolo museo e raccoglie dei pezzi di carta dei ritagli su cui ci sono dei nomi e degli indirizzi e sono i biglietti dei delatori delatori che appunto alla polizia dichiaravano che in quella casa c'era una famiglia ebrea era un ebreo quindi il fenomeno del dettaglio dei delatori ma anche del collaborazionismo perché spesso anche in alto age l'alto age è che accoglie poi festante il nazismo perché è reduce naturalmente dall'italianizzazione quindi vuole una sorta di rivincita si sente libero almeno una parte della popolazione però per raccogliere gli ebrei per avere tutti i dati che occorrono occorre anche la parte fascista che collabora con l'elite nazista e questo mi è stato tanto più chiaro perché Villa Freiberg esiste nella realtà si chiama Villa Freischitz tutti i documenti di cui parlo tutte le fotografie esistono si possono consultare si possono vedere e in questa villa abita un generale fascista che si chiama Enea ha un altro cognome rispetto a quello che io gli do nel libro e dopo l'8 settembre Enea chiede di poter essere integrato nell'esercito nazista e lo fa attraverso una lettera scritta in italiano sono fasciste le armi che serviranno poi per accompagnare diciamo così questa sfortunata colonna di persone che vengono caricate sui treni bene allora entriamo nel vivo della storia che è la storia di due fratelli Benjamin ed Emma già orfani di madre diventeranno dopo l'8 settembre appena dopo anche orfani di padre perché il padre è soldato compie una scelta diversa opposta a quella di Enea e quindi riesce a scappare dallo stadio druso e dove erano stati rinchiusi tutti i soldati che poi diventeranno Imi e quindi verranno internati nei campi di internamento della Germania e in quanto desertore poi viene preso catturato e con una sorta di pretesto viene ucciso e il punto è che il padre si era rivolto appunto a questo generale perché ovviamente erano amici di guerra avevano combattuto le guerre fasciste insieme e si rivolge a questo generale e gli chiede in caso di morte insomma di ospitare i figli i propri figli Benjamin ed Emma e così sarà il problema che Enea in questo caso Tondini nel romanzo questo generale insomma è un po' anche vittima e succube della moglie che invece si chiama Frau Anna una discende da una famiglia nobile quindi questa villa era stata costruita dal padre non sembra di ricordare e in questo momento lei non viaggiava in buone acque perché il padre gli aveva di fatto tagliato i viveri non gli dava più l'assegno e quindi lei ovviamente si doveva ingraziare secondo me ancora di più gli occupanti e il problema di fondo qual è è che Benjamin è un ragazzino muto ma non per una tarra ereditaria ma perché ha subito uno shock in questo caso mi ricorda mi ricorda molto la bambina Martina di quel capolavoro che è l'uomo che verrà di Giorgio Diritti che racconta la strage di Marzabotto con gli occhi di questa bambina muta perché anche lei ha subito uno shock terribile e questo bambino poi alla fine Benjamin perché in realtà ha sì questo difetto diciamo tra virgolette ovviamente del mutismo ma in realtà ha una capacità di disegno incredibile una capacità anche mnemonica straordinaria il problema qual è di fondo che appunto verrà colto da questo medico nazista che si chiama Herr Gunther che poi sarà il medico che lo porterà da Hall e farà gli esperimenti su di lui è che sono arte desenerata perché disegna frammenti di insetti insetti ali invece di disegnare paesaggi o insomma la classica scultura ariana come andava di moda all'epoca ecco io leggerei anche qui un pezzetto in cui si scopre la capacità di disegno e anche il motivo perché poi in realtà cosa succede questo bimbo avrà una reazione proporzionata perché la cuoca ucciderà un insetto e quindi da questa poi reazione ci sarà poi l'organizzazione della cattura ovviamente la signora fra Anna e Denea Tondini firmeranno il permesso per lasciarlo nelle mani di Arguntere e il bambino sparirà lo sguardo di Chichi era corso sulle pareti sui tavoli ovunque erano appesi fogli su cui una mano esperta e sicura aveva disegnato insetti che la facevano rabbrividire dettagli di antenne ali pungiglioni una foresta in cui si sentiva minuscola di fronte a mostri che sembravano arrivare da un'altra epoca o dalle pagine di un romanzo di Jules Verne che Chichi aveva rubato dalla biblioteca di suo nonno ancora tramortita aveva incrociato lo sguardo sorridente di Emma era un'opera di Benjamin il suo fratellino geniale tesori che ripescava dalle crepe della sua mente rotta e lì davanti a Chichi al suo sguardo pieno di meraviglie e di terrore per la prima volta Emma aveva compreso quanto fossero speciali i suoi disegni e i pericolosi Emma deglutì il boccone quasi intero da neonato piangeva e faceva dei versi ma non ha mai imparato a parlare mamma diceva che era colpa dell'incidente la mattina che erano andati a comprare il latte per Benjamin ed erano entrati i soldati per portare via il ragazzo che si nascondeva nella cantina lei non aveva fatto in tempo a vedere e capire perché c'era una gran ressa la gente si era calcata dentro il negozio per la paura un soldato aveva sparato contro la credenza i vetri erano schizzati dappertutto e lei e sua madre che stringeva il piccolo Benjamin in braccio si erano trovate schiacciate nell'angolo Emma non era più riuscita a respirare tutti sgomitavano e spingevano per nascondersi sotto il bancone era stato lì che la testolina di suo fratello era stata colpita ma non se ne erano accorte subito non usciva sangue non c'era nessuna macchia blu sulla pelle Emma lo aveva colpito solo con il tempo le ferite lo aveva capito solo con il tempo scusate le ferite più profonde non sanguinano mai e poi c'è il momento in cui appunto Benjamin ha una reazione sproposentata che mi sembra che è questo interessante giocava con una specie di insetto di ragno ce l'aveva in mano lo faceva saltare da un dito all'altro e io glielo ho preso e lo lanciò un'incontrovertibile occhiata alla minuscola chiazza scura sul pavimento su cui si concentrarono all'unisono gli sguardi in cucina ci vuole pulizia balbettò scusandosi Emma cercò di avvicinarsi per abbracciarlo ma Benjamin scattò in avanti e la graffiò santo cielo al demonio in corpo soffiò fra Oanna Benjamin calmati ma il suo tono più dolce non funzionava Emma non potè che guardare come tutti gli altri restare lì e aspettare che la furia si placasse mentre Benjamin faceva pezzi il suo il loro mondo si strappava la maglietta e si liberava dei pantaloni della canottiera come da una crisalide troppo stretta troppo vecchia che lo stringeva e lo soffocava ecco quindi dopo puoi raccontare un po' l'avevi già accennato ma entriamo dopo volevo leggere anche un po' alcune descrizioni della clinica di Hall ma intanto insomma lui in realtà aveva sì un deficit ma aveva anche un grande dono sì esatto io per costruire diciamo il personaggio di Benjamin mi sono basata su alcune testimonianze e gli ho dato dei tratti dell'Asperger anche se non si chiama più così però ricordo Asperger era un dottore dell'Action Tefir cioè un dottore che allo Spiegelgrund di Vienna cura questi bambini gioca con loro gli dà da mangiare e li conosce e poi li uccide tutti con un'iniezione di veleno e Benjamin riprende anche la testimonianza reale di un bambino che è stato portato poi appunto in uno di questi campi muto perché aveva subito un incidente la questione dell'incidente è un po' quello che diceva Marco cioè c'è un motivo naturalmente vero e poi ci sono le spiegazioni che danno vari personaggi e tra cui anche Benjamin che è la spiegazione a cui io tengo di più che si trova un po' verso la fine del libro in cui lui spiega perché lui non parla e lo fa con il linguaggio dei bambini questo linguaggio che ha a che fare un po' con il simbolo con la fantasia a volte anche con la fiaba perché come dicevi tu prima questo progetto nato ovviamente il processo di sterilizzazione nasce dal 34 in poi con le varie leggi che si susseguono dopo ovviamente le leggi di Norimberga che tra l'altro definiscono chi è un vero tedesco e quindi ovviamente escludono una gran parte della popolazione tedesca ma nel 39 iniziano questi crimini contro bambini disabili cronici cosiddetti disgenici proprio perché erano un pericolo per l'integrità della razza ariana e quindi si costituiscono sei cliniche della morte a cui tutti poi le cliniche pediatriche e le cliniche psichiatriche poi afferiscono ma in realtà poi come dicevi tu prima anche negli stessi cliniche psichiatriche si attuano questi omicidi quello però che volevo chiederti è che di fatto perché si interruppe nel 41 perché in realtà sulla base della spinta di alcune madri di famiglie la chiesa protestante quella cattolica fecero diverse omelie insomma contro questo progetto e soprattutto il vescovo di Münster August von Galen mi sembra nell'agosto del 41 proprio fece un'omelia pesantissima e Hitler ovviamente dopo interruppe ovviamente di facciata questo progetto che continuò di fatto fino alla fine della guerra ma dicevo è tutto ovviamente stato molto in silenzio questo progetto anche se di fatto esistono comunque manifesti esistono filmati avevano fatto anche un documentario per cercare di far capire alle persone che queste vite erano un peso e soprattutto erano un peso economico quindi questo è anche il lato agghiacciante che ci pone tante domande anche nel nostro presente e nella nostra attualità diciamo la macchina della propaganda nazista è lucida e spietata nella sua efficienza tutte le maglie della società vengono diciamo così istruite in qualche modo fin dai piccoli fin dalle scuole in cui i bambini dovevano risolvere un problema in cui si chiedeva loro se un pazzo perché poi il linguaggio era questo costa tot marchi al Reich un delinquente perché venivano recuperati costa tot marchi al Reich esistono tot delinquenti tot pazzi con questi marchi quanti bonus si potrebbero dare a giovani coppie tedesche che vogliono sposarsi c'erano film c'erano libri si faceva leva sul costo sociale di questa parte malata della società a cui si poteva rinunciare perché comunque era un peso e comunque era destinata alla morte e poi si faceva riferimento e leva presso le famiglie soprattutto quelle più fragili sul costo emotivo e psicologico che poteva avere il prendersi cura di una persona malata il bambino ad esempio che ispira Benjamin è un bambino anche lui orfano ha solo due sorelle e le sorelle vengono convinte dal medico di base del paese che verrà curato che in questa clinica verrà curato come loro non possono fare perché i parenti dovevano firmare una carta una liberatoria e quando come si diceva cominciano a capire che loro dei parenti non hanno più notizie fanno domande a cui non hanno risposte si rivolgono ai preti e quindi ai vescovi e Hitler che è molto attento perché è un'operazione che non si può avvalere del concetto di razza sono tedeschi infatti Von Galen dice nella sua omelia quando tornano i nostri figli che hanno combattuto al fronte e magari sono minati nello spirito nel corpo che cosa dovrebbe accadere loro dobbiamo sbarazzarci di loro che hanno sacrificato la loro vita per noi per la heimat per la patria quindi si mettono in circolo tutta una serie di domande sul costo della società perché ogni società per sopravvivere ha bisogno di una certa omeostasi di riconoscere che cos'è società di chiudersi al suo interno e di riconoscere un esterno ma il confine è estremamente labile io leggerei a questo punto un po' la descrizione che tu hai fatto della clinica di Hall e alcuni momenti ovviamente Benjamin dentro questa clinica incontrerà Herr Gunther più volte e qui lo vedremo all'opera sugli occhi del bambino perché in realtà a lui interessava capire come mai questo cristallino avesse questa capacità mnemonica così sviluppata e quindi insomma cercava di iniettare sostanze negli occhi che poi l'hanno reso di fatto cieco insomma comunque gli hanno provocato un grande dolore questo episodio diciamo degli esperimenti viene preso da quello che accade alla clinica di Innsbruck con dei bambini altoatesini arrivati dall'altoage quindi sono esperimenti che in realtà hanno in questo caso una validata scientifica molto opinabile e e poi c'è un personaggio Uschi Ursula in realtà Gamper che è una ragazzina incinta una ragazzina considerata asociale scapestrata nel senso che è scappata da scuola si è fatta mettere incinta e quindi non era ovviamente il canone di ragazza tedesca votata a fare molti figli ed è stare in casa insomma e quindi viene anche lei rinchiusa e adesso leggeremo poi magari ce ne parlerà anche di questo le finestre avevano le sbarre e non si sentivano rumori lì dentro c'era più silenzio che in un bosco silenzioso quando gli animali se ne stanno zitti e rintanati e fuori nevica 14 letti in due file da sette le sponde di ferro 10 sbarre per lato 20 sbarre per letto 3 finestre troppo alte per arrivarci che dividevano il cielo in 7 spicchi ciascuna quadrati di cielo come pinze di tostapane la clinica era divisa in due blocchi gli uomini nel vecchio edificio che una volta era stato un convento le donne nella sede nuova anche se nuova non sembrava affatto per via dell'intonaco scrostato e dei bagni luridi e di quell'odore come di lana bagnata che ti restava addosso anche dopo che avevi attraversato i corridoi ed è riuscito all'aria aperta entrambi convergevano in un rettangolo centrale aggiunto per ultimo i più giovani spesso li vedevi da una parte e dall'altra forse perché i dottori pensavano che avrebbe fatto bene alle donne prendessi cura dei più piccoli che a loro volta avrebbero trovato sollievo dalla nostalgia di casa grazie a una parola o un gesto di gentilezza femminile una premura ma nessuno si prendeva cura dell'altro c'era lo stomaco c'era la fame che si ingoiava tutto l'aria i pensieri i ricordi c'era la fatica che confondeva il tempo lo dilattava lo accorciava e le medicine a volte anche le botte se non eri abbastanza svelto a lasciare una stanza a sederti a ingoiare una pastiglia per Benjamin i più piccoli che se ne andavano da una zona all'altra come pulcini semplicemente sfuggivano perché gli edifici erano meno sorvegliati gli infermieri più distratti aveva visto alcune ragazze del personale mettersi in tasca il pane una scatola di antidolorifici si finiva di tutto in quelle tasche grandi e profonde Maria Vincenzo Santino Carlo Benjamin ripeteva i nomi incisi sulla parete dietro il suo letto e che gli vorticavano nella mente con la voce di Uschi perché la sua non la conosceva non esisteva con il fiato spezzato aspettava Gunther in una stanza vuota che a un tratto però scompariva e lui aveva la sensazione di trovarsi ancora nel corridoio della zona sud da cui era appena arrivato non parli non ci sveli i tuoi talenti sussurrò il dottore avvicinandosi con la cannula di vetro che aveva appena aspirato qualche goccia di liquido dal flacone sei pigro Benjamin e i bambini pigri non vanno da nessuna parte si impigriscono sempre di più finché smettono di muoversi di mangiare di pettinarsi si ricoprono di pidocchi i capelli si annodano la pelle diventa di carta pesta e poi si sgretola come sabbia ogni strofa della cantilena accompagnava un passaggio del suo rito asciugarsi le mani col tovagliolo di cotone controllare la scala graduata il colore del liquido aggiustarsi gli occhiali gli teneva aperte le palpebre con le mani e spingeva la testa reclinandogli indietro il collo il collirio bruciava voleva staccargli gli occhi infilarli dentro un barattolo e metterli in bella mostra nella sua stanza delle meraviglie ma c'è un altro modo perché tu possa dare il tuo contributo quello che possiamo scoprire a come reagiranno i tuoi occhi potrebbe salvare la vita di molte persone dovreste andarne molto fiero proprio così Benjamin sono gli occhi gli aveva detto Herr Gunther la mattina dopo si era svegliato con un gran prurito e le palpebre gonfie e rossate gli occhi conservavano tutti i nostri ricordi qualcuno potrebbe dire che sia l'anima oppure il cuore ad avere questa funzione o forse la mente ma vedi disse estraendo dal cassetto un ferro chirurgico io sono certo che il vero specchio della memoria sia il cristallino registra ogni dettaglio lo conserva lo ricompone e i tuoi occhi sono molto speciali il modo in cui fissono i dettagli e comunicano le immagini nella tua testolina è affascinante Benjamin si era ritratto di fronte allo strumento ma Herr Gunther era stato gentile e non gli aveva fatto male quali ricordi conservi qui dentro da dove vieni davvero tu e adesso c'è l'incontro incontro si erano già incontrati con appunto questa ragazza ragazzo muto tu non puoi venire qui Benjamin non l'aveva ascoltata e l'aveva aiutata ad alzarsi dal letto l'infermiera lo aveva lasciato fare era di spalle raccoglieva le padelle ma Benjamin non si illudeva che non si fosse accorta della sua presenza a quella non importa un bel fico secco l'ho chiesto del bambino ed è più muta di te muta come una mula che ripete sempre lo stesso verso il bambino sta bene devo rimettermi in forze conciata così non posso riprendermi cura di lui ma hanno smesso di darmi la colazione e io Cosme come dovrei fare Uschi fece una pausa lo guardò dritto negli occhi come se gli stesse per dire qualcosa di importante che doveva ascoltare con attenzione lui soltanto perché abbassò la voce di un tono lo sento piangere ogni mattina ogni notte a fame si erano fermati nel mezzo del corridoio stretto davanti a loro un rettangolo di ombra in cui la luce si inconeava a spicchio usce avvicino alla bocca al suo orecchio fino all'altra sera ora non lo sento più sussurrò abbassando lentamente la mano dall'orecchio al cuore e lasciandola lì sopra quasi che insieme al suo battito potesse ascoltare anche quello del suo bambino ti sei accorto Benjamin le nostre razioni sono fatte di acqua sporca e questa volta non c'entra quanto sei utile ci stanno facendo morire di fame tutti ecco questo è vero che i neonati venivano fatti morire di fame e tu poi me ce lo dirai ma mi ha colpito molto considerando il luogo quindi la Germania l'Austria di queste infermiere che in realtà rubano e affamano di fatto poi perché non penso che ci fosse comunque abbondanza anche negli ospedali quindi loro accaparrandosi ovviamente il pane lo toglievano ai pazienti evidentemente esatto siamo alla fine della guerra manca tutto e succede una cosa che mi ha colpito molto questi centri minori come ad esempio HAL in questi centri minori diciamo è più facile negare quello che è accaduto quando tu entri ad esempio ad Artheim che è un luogo della morte dobbiamo ancora una camera gas dove i pazienti venivano fatti arrivare con gli autobus neri con i vetri oscurati però abbiamo le testimonianze lì le abbiamo poi il piano sopra i dottori festeggiavano i loro compleanni avevamo le foto delle feste di Natale su quegli stessi autobus andavano in paese poi a cenare però non puoi non dire che lì è accaduto qualcosa in centri più piccoli come HAL invece non abbiamo camera gas eccetera e quando sono andata a intervistare il direttore dell'archivio Oliver Seifert lui è rimasto insomma un po' diffidente nel momento in cui gli ho detto che avrei voluto scrivere un romanzo su l'Action Tefir ambientato ad HAL perché la sua domanda in tedesco è stata ma non vorrei che poi venissero qui le persone a dire che noi qui uccidevamo le persone perché da questi centri più piccoli che erano veramente un labirinto una ragnatela come accade nella Shoah con i campi di sterminio infatti molti dottori vanno poi a lavorare nei campi di sterminio ci sono tutti questi centri più piccoli che smistano i pazienti oppure dopo il 41 nel 43 nel 44 hanno un ordine implicito non ufficiale di eliminare i pazienti non curandoli più smettendo di curarli quindi non dandogli più da mangiare è quello che succede anche alla prima moglie di Mussolini Ida Dalser quando appunto lui vuole risposarsi e lei fa notare che in realtà sarebbe la moglie la prima moglie diventa un personaggio molto scomodo ha un figlio un figlio di Mussolini è di Trento lei viene internata nell'ospedale di Pergine da cui poi arrivano anche molti pazienti vanno ad Halle poi in altre cliniche poi un'odissea insieme al figlio per altri ospedali psichiatrici Venezia Milano dove muore di consunzione quindi lei e il bambino era proprio una cosa sembra casuale ma non lo è era più facile nasconderlo ma ecco la macchina che era stata messa in piedi funziona ancora adesso i parenti delle vittime ancora adesso fanno fatica a trovare a capire cosa sia accaduto ai loro cari perché anche i certificati che arrivavano o ne testimoniavano la morte spesso per polmonite erano falsi e quando si mettono adesso anche negli anni 2000 a cercare cosa sia accaduto per loro è veramente molto molto complicato tra l'altro come Aned andiamo tutti gli anni a Mauthausen e ci fermiamo anche a Dark Time perché lì poi è stato ucciso il padre di una famiglia di cinque persone tre figlie e la moglie le figlie erano state mandate a Ravensbrück lui è stato un po' hanno vissuto un po' a Imola poi si sono trasferiti a Bologna e lui è uno perché nelle cliniche della morte non morivano solo le persone appunto croniche ma anche i deportati di Mauthausen che funzionava un po' come valvola di sfogo e quindi lui diventato un musulman non nel gergo quelle persone inebetite proprio per fame che non riescono più a ragionare vengono poi eliminate in qualsiasi modo quindi c'era anche un pulmino che faceva sempre Artaimo o Gusen e Mauthausen e nel tratto venivano uccise le persone con il monossero di carbonio che venne anche utilizzato nei centri appunto di sterminio il monossero di carbonio ricordo anche per esempio il boia di Sovibor e Treblinka Franz Stangel si è formato come dicevi tu prima nel Axe Antiquattro a Propoder Time e poi dopo insomma quando hanno avuto il loro periodo di esperienza vengono mandati a dirigere questi campi e il romanzo ha due piani narrativi distinti in modo temporale una parte che riguarda il passato in cui si svolgono i fatti invece una parte riguarda l'oggi perché di fatto la figlia di questa fra Anna ed Enea questa Chichi citata un po' nella lettura precedente diventa ovviamente amica di Emma e invece nella contemporaneità è un'anziana signora che si era diciamo rintanata in questa villa ed era anche che aveva sviluppato un carattere anche piuttosto burbero piuttosto chiuso e quando muore lascia un testamento a questa architetto che si chiama Elisabeth detta Bess di diciamo prendersi cura della villa ma di tutto ciò che contiene quindi anche le memorie scomode perché il suo obiettivo era quello poi di ricucire questa storia di fare in modo che la storia di Benjamin venisse alla luce e allora nella contemporaneità ci sono sempre personaggi che hanno famiglie comunque un po' disastrate divorzi figli che hanno interrotto un rapporto nel caso di Albert che poi è il personaggio spalla di Bess poi con lui si crea anche un rapporto amoroso ma ecco che legami ci sono tra i due piani narrativi tra i personaggi diciamo che da un punto di vista emotivo ho cercato un po' di bilanciare perché diciamo che la gamma cromatica del passato è abbastanza pesante quindi si racconta un fatto molto duro molto difficile perché parliamo di bambini parliamo anche di donne e testimonianze appunto la parte sul presente invece è un pochino più leggera quindi si ci sono questi personaggi che hanno ciascuno la propria difficoltà il proprio problema con figli adolescenti problemi relazionali di comprensione e hanno questo grande obiettivo ricevono un'eredità Bess riceve un'eredità che sembra l'eredità fortunata quindi una villa una villa d'epoca con un immenso parco solo che questa villa non può essere abitata non può essere venduta e deve essere trasformata in una casa museo Bess non è mai entrata nella villa con la proprietaria Chichi ha pure litigato quindi non sa perché Chichi l'abbia data a lei quando entra nella villa si accorge che in realtà della collezione d'arte non c'è traccia ma è invasa dall'immondizia e dai gatti quindi lei come altri personaggi che si avvicendano nella villa dovrà cercare di mettere mano in questa immondizia e trovare fuori il cuore palpitante della villa quello che resta di vivo che sono le storie delle persone che hanno attraversato le sue stanze tra cui quella di Benjamin che è scomparso e non si sa più che fine abbia fatto se sia vivo o se sia ancora dall'altra parte del confine e quindi Emma molto anziana ha la possibilità di andare alla ricerca di questo fratello perché lei vive anche un profondo senso di colpa dicevo Villa Freiberg esiste e anche la storia del suo recupero è la storia vera quindi questa Kiki esiste davvero lei era davvero un'accumulatrice compulsiva ed è impressionante perché vedendo le sue foto lei è una persona molto curata con il rossetto ci teneva molto ad avere l'acconciatura amava moltissimo gli animali aveva questi cani di razza con cui faceva esposizioni eccetera però poi viveva nell'immondizia e praticamente dormiva abitava una piccola ala della villa e anche la sua stanza era invasa dai sacchi non aveva le cose nell'armario aveva le cose nei sacchetti proprio di plastica e poi aveva salvato da tutto questo armageddon le cose che erano importanti per lei che a noi sembrerebbero tipo le coccarde dei cani che avevano vinto i cani tipo i lavoretti che aveva fatto da bambina poi è vero aveva questo rapporto con il nonno che era il commerciante di vini che aveva ricchissimo che aveva acquistato questa collezione fantastica un po' in tutto il mondo perché era una famiglia che aveva legami molto forti con tutta Europa e anche con il Sud America quindi con la Francia il Sud America e molto molto interessante e beh si trova a dover anche ricostruire l'albero genealogico perché non si sapeva assolutamente nulla lei di Chichi dell'ultima erede di questa vecchietta anziana un po' così anche scorbutica non sapeva assolutamente nulla quindi ecco qui diciamo nel presente si stemprano un po' i toni del passato sì beh poi funziona anche un po' come insomma per dare spiegazioni un po' più anche storiche più oggettive rispetto invece al passato ma è esistita Chichi ma sono esistite anche questo gruppo di donne mi pare che hanno poi si sono preso cura della villa sì sì assolutamente è diventata è un'associazione la villa è diventata effettivamente una villa museo non vi dico che cosa è stato trovato della collezione ma qualcosa di molto importante interessante è stato trovato si può visitare ha aperto tra l'altro un po' sfortunatamente prima del covid quindi poi hanno dovuto sospendere e riaprire e hanno davvero lavorato perché la vera Bess Waldner che sarebbe Hertha Waldner non sapeva nulla era un architetto non sapeva di collezioni di archivi e si fa aiutare nella realtà da Ariane Carbe che lavora nei musei quindi a Berlino e hanno dovuto davvero reinventarsi proprio da zero lavoravano al freddo con i giubbotti senza elettricità senza luce quindi anche in condizioni abbastanza difficili mosse davvero solo dalla passione dall'esiderio di recuperare questa storia perché trovavano qualcosa una fotografia un album una carta di Enea tra l'altro loro erano molto spaventate dal fatto che ci fosse un generale fascista all'inizio perché non volevano che poi tutta la villa venisse in qualche modo etichettata e invece è un materiale documentario importantissimo ultima domanda mi ha colpito tantissimo la tensione che i tuoi personaggi hanno nel ricucire nel voler ricucire a tutti i costi i rapporti interrotti o per cause esterne nel caso di Benjamin portato via da Gunther oppure per propri demeriti per propri errori cosa che facciamo tutti nella vita come Albert appunto questo amico di Bess che ha interrotto il rapporto con la figlia o come la stessa Bess con la madre malata di Alzheimer chiusa messa in una clinica e quindi mi ha colpito molto questo sentimento appunto della compassione che tu hai evidenziato tanto nella caratterizzazione dei personaggi e che oggi a che punto siamo insomma con questo nobile sentimento che dovrebbe essere e perché appunto hai voluto sottolineare questa caparbietà nel ricucire i rapporti credo che sia quello che ci rende umani e diciamo che è più facile forse fare conti con un dolore esterno con qualcosa che è fuori di noi ad esempio ripulire una villa fare fatica arrivare estremati la sera fino a non pensare più piuttosto che metterci nel silenzio avere a che fare con noi stessi con i nostri fantasmi che sono invisibili che non hanno forma quindi è molto più difficile a volte legarli e la villa ecco diventa qualcosa di tangibile di vero ma anche di simbolico sia questo fare conti con il proprio passato che anche conservarlo che tenerne memoria che custodirlo ma anche prenderci cura delle storie degli altri e che questo ci possa dare la forza per prenderci cura della nostra storia grazie no grazie a voi voglio leggere brevemente una nota dell'autrice che ovviamente fa un profilo contestualizza questo solo qualche numero qualche dato dal 1934 al 1945 più di 200.000 persone tra cui 10.000 bambini furono uccise in cliniche e istituti di cura e di ricerca 400.000 vennero sterilizzate la storia di Benjamin non è pura finzione è quella dei dodicenni Rudolf rinchiusi in un ospedale psichiatrico perché muto non per una malattia trasmissibile geneticamente ma per un drammatico incidente che lo aveva privato per sempre dalla facoltà di parlare e della pronipote che qualche anno fa a partire dalla casa in cui aveva abitato quello zio di cui mai nessuno parlava ha deciso di ritrovarne le tracce ma è anche la storia del piccolo Pepe alto tesino il cui nome è scritto sulla lista della morte miracolosamente salvato dal coraggio di una madre morte vita la storia di Ursula la ragazzina sterilizzata è quella di Maria troppo libera troppo disinvolta o dell'alto tesina crescenza ecco questi sono tutti i casi che tu hai trovato insomma la tua strada e a questo punto però io passo cedo la parola volentieri al pubblico se avete delle curiosità delle domande se avete letto il libro se non l'avete letto bene allora a questo punto vi invito caldamente a leggerlo io devo a questo punto corro anch'io a leggere il suo romanzo precedente che era i bambini di Sveve che ha presentato qui a Imola tre anni fa e che mi incuriosisce molto però insomma non voglio a questo punto riallacciare deve molto le biblioteche anche i bambini di Sveve perché alcune storie erano state raccontate proprio in queste piccole biblioteche di paese dove c'è il bibliotecario che diventa una sorta di amico di figura di riferimento e alcune persone anziane che non avevano più famiglia non sopravano più a chi lasciare questo lascito di storie che si erano portati dentro l'hanno raccontate proprio ai bibliotecari bene grazie ancora grazie a voi grazie a voi grazie a voi